buddha camminava con i suoi discepoli ad un certo punto arrivarono in un lago e chiese a un suo discepolo di portargli un po di acqua dal lago perché aveva sete ma quando il discepolo andò nel lago per prendere l'acqua passò un carro con un bue e quindi l'acqua si sporcò si intorbidì c'era il fango e quindi corse da buddha e disse maestro l'acqua non è bevibile così perché torbida dopo circa una mezz'oretta buddha chiese di nuovo al suo discepolo adesso torna a prendere l'acqua o sete il discepolo andò ma nuovamente l'acqua ancora non era limpida ancora era torbida e quindi disse maestro l'acqua è torbida non si può bere in queste condizioni e quindi il discepolo lasciò stare per un po a un certo punto buddha nuovamente chiese l'acqua e il discepolo andò l'acqua era diventata limpida calma meravigliosa pulita e quindi la prese e la portò a buddha e buddha gli disse adesso guarda quest'acqua quest'acqua che adesso tu l'hai lasciata stare ed è diventata limpida così è la tua mente quando è torbida quando non è limpida lasciala stare perché il tempo farà in modo che torni libera grazie grazie